Buongiorno, oggi è il 19 dicembre, sono le 8.44 e appena mi sono svegliata ho deciso di fare l'estrazione del divave, in modo tale che il vincitore o vincitrice avrò la possibilità di contattarmi al più presto per ricevere il pacchettino. Sono in totale 93 commenti di cui molti ne ho dovuti cancellare perché erano più di un commento a testa, le ragazze però che hanno fatto più di un commento le ho ritenute idonee lo stesso, ho cancellato solo i commenti in eccesso perché a Natale siamo tutti più buoni e la prossima volta però poi le eliminerò, escluderò proprio dal giveaway. Adesso andiamo su random.org, che ho appena aperto infatti, random.org e facciamo da 1 a 93, aspettate un attimo e dobbiamo andare a contare tutto il numero che uscirà, 93, invio, il numero 5, proprio grazie, grazie random che mi ha generato un numero piccolo così conto fino a 5. Allora, il primo è Carmela, il secondo Laura, il terzo è qui Ross, il quarto e il quinto è Lisabel 90. Lisabel 90. Lisa, no, Lisa Eli 90. Complimenti Lisa Eli 90, adesso vedrò se sei iscritta ma credo di sì perché se non mi sbaglio ho visto, già ho visto tutti quanti. Per Natale vorrei che mia nonna, un'azio che non si vede, guarisse dal tumore e che io sto davvero, che io ci sto davvero, scusami che non riesco a leggere da qui male, ci sono cresciuta con mia nonna e non riesco a pensare che non ci sarà più. Un bacione veramente, Lisa Eli 90, mi dispiace per tua nonna e spero che guarisca presto e riesco a guarire, a superare questa cosa. Un bacio, ti sono vicina e mandami i tuoi dati più presto, è vinto. Ciao ciao, ciao a tutti, per voi ci sarà un prossimo giveaway, un bacio e seguite i miei ragazzi, ciao ciao.